Campagna vaccinale per Covid-19 che prosegue dopo le criticità delle scorse settimane legate agli effetti collaterali di AstraZeneca e allo stop dell'EMA sui vaccini Johnson & Johnson. Le vaccinazioni, come sottolineato dal Ministro della Salute Roberto Speranza, hanno avuto forte incremento negli scorsi giorni, riuscendo a toccare cifre record nelle somministrazioni giornaliere. Nel fine settimana, in Italia, le dosi somministrate in un giorno sono state oltre 300.000. L'Italia, su tutto il territorio, ha utilizzato l'83,3% delle dosi di vaccino consegnate. Resta però da recuperare il deficit di una partenza non adeguata ai rallentamenti delle scorse settimane. Infatti, mentre iniziano a spuntare i primi paesi che raggiungono l'immunità di greggie, l'Italia è ancora impigliata agli over 80, categoria maggiormente a rischio. Gli anziani oltre 80 anni che ad oggi hanno ricevuto la prima dose sono il 76%, mentre solo il 45% è ad oggi immunizzato. L'attenzione resta alta per le altre categorie fragili, a preoccupare maggiormente la categoria dei cittadini di età compresa tra 70 e 79 anni. Gli over 70, a cui è stata inoculata la prima dose, sono solo il 30%, entrambe le dosi il 3,4%, lasciando oltre 4 milioni di cittadini ancora in attesa di convocazione per la prima somministrazione. Campagna vaccinale che prosegue anche a Torre del Greco. Ad oggi, da quanto si apprende dai dati dell'azienda sanitaria locale, le dosi somministrate sono 10.000, circa 3.000 in più rispetto alla settimana precedente. Gli over 80 vaccinati sono 3.590, mentre coloro di età compresa tra 70 e 79 sono 518. Partita anche la vaccinazione per gli over 60, con 140 dosi già inoculate. Guardo anche ai cittadini disabili con 52 vaccinati. Il governo italiano è pronto con i nuovi piani vaccinali e punta, nella prima decada di giugno, di riuscire a vaccinare almeno con una prima dose gli over 60, fascia nella quale durante l'ultima ondata si sono registrati maggiori decessi. Un obiettivo arduo ma non impossibile. Le dosi arrivate in Italia degli ultimi giorni del 2020 sono ad oggi circa 14 milioni, che dovrebbero triplicare nel breve periodo, stando alle dichiarazioni del generale Figliuolo. Resta quindi decisivo il risponso che ci dirà se poter contare sulle dosi di Johnson & Johnson. Il vaccino statunitense, per le sue modalità di conservazione e somministrazione, consentirebbe senz'altro di velocizzare in modo sostanziale la campagna vaccinale italiana. Non ci resta quindi che attendere il lema su Johnson & Johnson, risponso fissato nella giornata di oggi.